Camera di commercio si trovi rapidamente una posizione unitaria in Sicilia. Le associazioni di categorie della provincia di Siracusa prendono con un documento definitivamente la distanza dalla cosiddetta Camera di commercio del sud-est che è stata sciolta con un emendamento presentato al decreto sostegno in bis dai deputati Stefania Prestigiacomo, Nino Minardo, Paolo Figara, Filippo Scerra e Fausto Raciti. Pur sostenendo con determinazione l'impossibilità di una Camera di commercio che vada da Trapani a Siracusa, dichiarano infatti in modo chiaro, come finora non avevano fatto, che la nuova norma consente di riaprire il dibattito sulla necessaria revisione dell'attuale sistema di accorpamento delle Camere di commercio del sud-est che ha visto sempre marginale e ininfluente il ruolo delle imprese siracusane. A questo punto il potente, di fatto ex Presidente della Camera di commercio Pietro Agene, si trova sempre più isolato e supportato solo dal suo filo Presidente regionale di confcommercio Gianluca Manenti. Le stesse pesanti pressioni nei confronti di Mosumeci affinché la Regione impugni la nuova norma, peraltro con possibilità di successo quasi nulle, appaiono destinate a non trovare alcuno spazio. La Camera di commercio cosiddetta del sud-est sembra a questo punto definitivamente archiviata, compito della Regione di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, quindi adesso di fare in modo, sentite l'associazione di categorie, che unanimamente dalla Sicilia, Regione Statuto Speciale, venga avanzata con forza la richiesta di cinque Camere di commercio anziché quattro, garantendo la possibilità di istituire, oltre alle tre Camere delle province metropolitane, anche una Camera di commercio che comprende le province di Trapani, Caltanissette e Agrigento e un'altra che comprende le province di Siracusa, Ragusa e Denna. La soluzione è determinata dalla nuova norma, ancorché nell'immediato assolutamente necessaria per sbloccare un sistema chiuso e infatti difficilmente gestibile, attese, come segnalato dalle associazioni di categoria, le difficoltà di gestione di una circoscrizione camerale di dimensioni così elevate e la profonda differenza del contesto socio-economico di province così distanti fra loro.